ciao e benvenute in questo video che io aspettavo di girare veramente da tantissimo tempo se mi seguite da un po ormai avrete visto che sono in uscita veramente a giorni cioè i miei planner ho scritto due planner uno di essential planner che è un planner per tutto il 2025 quindi proprio un'agenda giornaliera ma ne parleremo meglio prossimamente e un planner per le vacanze per il periodo delle feste di holiday planner di holiday planner è proprio il planner che ti permette di alleggerire le feste di semplificare di tenere traccia di tutti i tuoi ricordi ma ve ne ho già parlato fin troppo da settembre ad oggi è un mese e mezzo che questi planner erano in preparazione ci sono stati degli intoppi non lo nasconderò e infatti questi planner adesso sono in stampa indipendente sono davvero orgogliosa di aver preso questa decisione e di aver deciso di portarli a voi nonostante tutte le difficoltà che avessi incontrato nella realizzazione di questi planner per cui è ufficiale di holiday planner e di social planner sono pronti per arrivare nelle vostre case qui sotto trovate il link di acquisto di entrambi quindi già da oggi potete comprarli e in pochissimi giorni penso entro il fine settimana se non i primi giorni della settimana prossima saranno nelle vostre case ma la cosa che non abbiamo ancora fatto è sfogliarli quindi oggi sfogliamo di holiday planner e andiamo proprio a impostare le prime pagine di questo planner quindi un po lo sfogliamo un po iniziamo già a compilarlo anche perché metà ottobre nel senso il planner inizia dal primo novembre è un planner proprio che ti permette di pianificare in anticipo per vivere il più serenamente possibile le vacanze per cui volevo che fosse vostro volevo che arrivasse nelle vostre case per tempo quindi iniziamo io mentre lo sfoglio ve lo commento proprio perché sono orgogliosissima il planner inizia con la frase che per me è il motto di questo planner meno stress più magia proprio perché è stato pensato per portarvi a vivere questo periodo con meno stress per permettervi di vivere questo periodo con godendovi tutta la magia che questo comporta qui c'è una piccola introduzione sotto la mia mano c'è il QR code che è quello che vi permetterà di accedere all'evento esclusivo per chi acquista di holiday planner l'evento esclusivo per chi acquista di holiday planner è un evento online gratuito che avverrà il 23 dicembre sarà un workshop gratuito nel quale creeremo insieme la vostra vision board per il 2025 quindi andremo a settare quali sono i vostri obiettivi per il nuovo anno solo le cose che di solito si fanno proprio durante le feste bene noi le faremo insieme e creeremo proprio fisicamente la vision board per il nuovo anno insieme cliccate su questo QR code e iscrivetevi al workshop gratuito vi aspetto iniziamo proprio con la parte subitografica proprio perché di holiday planner è un planner disegnato anche di essential planner a tantissime parti disegnate che potrete andare a colorare io non ho quei miei colori mi piacerebbe tanto iniziare già a compilarlo ma probabilmente oggi farò solamente la parte compilata ok il concetto è proprio questo di tenere traccia delle vostre decorazioni ma allo stesso tempo di passare del tempo a rilassarvi tramite il non tanto il disegno ma il colorare proprio stile color in book subito dopo c'è il guardaroba capsula per le feste quindi avete lo spazio dove creare il vostro guardaroba capsula delle feste che cosa vuol dire il vostro guardaroba capsula delle feste in the holiday planner c'è proprio una bozza con sette righe per sette pezzi di so di top di sopra sette pezzi di sotto i maglioni per scaldarvi gli abiti speciali le borse le scarpe io lo compilo proprio così il mio guardaroba capsula per cui invito anche voi a provare magari a fare una piccola selezione non per tutto l'inverno che magari è una cosa troppo impegnativa ma proprio specifica per il periodo delle feste i vestiti che avete voglia di indossare i maglioni che vi ricordano il natale l'abito speciale che volete mettere per capodanno segnatelo tutto qui che così creerete facilmente il vostro guardaroba ci sono tante cose che poi non sto a commentarvi come le idee regalo che sono fondamentali proprio per sapere che cosa andare a regalare ho fatto una piccola traccia qualcosa da indossare qualcosa da mangiare qualcosa da leggere e qualcosa da giocare e poi la pagina a fianco è importantissima proprio per le taglie dei regali nel senso se fate dei regali di abbigliamento i bambini crescono noi cambiamo avere una traccia di quale taglia porta quella persona è importantissimo che così avete tutto scritto senza dover sforzarvi nella nel chiedere in continuazione i regali quindi proprio una traccia per segnare genoveffa ho preso un paio di pantofole l'ho prese si impacchettate si fantastico e così via per tutti i regali che volete fare durante questo periodo money tracking proprio perché questo vi permette di non dimenticare nulla e di non spendere troppo tenete traccia delle vostre spese c'è lo spazio per la lista della spesa delle feste proprio perché magari avete organizzate un pranzo di natale o una festa dopo andremo a vedere e quindi vorrete compilare una lista della spesa ne ho messo due pagine proprio di lista della spesa e poi iniziamo proprio con i menu i menu del solstizio e della vigilia i menu del solstizio e della vigilia noi tradizionalmente festeggiamo sempre il solstizio proprio perché è l'inizio delle feste è l'inizio dell'inverno è il giorno più corto del dell'anno il giorno nel senso giorno di luce mentre è la notte più lunga dell'anno e ci piace tantissimo celebrarla con una cena a lume di candela che è davvero sempre molto emozionante per cui se volete organizzare qualcuna di queste feste menu di natale capodanno o altri tipi di parti io ho lasciato un po di spazio per e idee per parti da organizzare ho pensato poi che magari qualcuno potrebbe partire per le vacanze magari andate a trovare i parenti o varie qui trovate tutto lo spazio per scrivere tutte le cose che volete mettere in valigia che dovete mettere in valigia e se poi lo faremo anche l'anno prossimo ritroverete di anno in anno la valigia dell'anno scorso dell'anno precedente per semplificare tantissimo quello che andrete a mettere in valigia di anno in anno la timeline del natale non ve la faccio vedere tanto perché è fondamentale la parte dove andate a vedere quello che potete fare sei settimane prima cinque settimane prima tre settimane prima e così via e poi due settimane prima una settimana prima la vigilia di natale e il giorno di natale inizia quindi il calendario ovvero proprio il planner questo planner infatti è un planner settimanale per gli ultimi due mesi dell'anno abbiamo infatti novembre con tutto il suo calendario e poi parte il planner settimanale ovvero parte da lunedì 28 ottobre e potete utilizzarlo proprio come planner come agenda settimanale per tutto il mese di novembre non ci sono segnate feste non c'è segnato niente semplicemente questo è il planner del mese arriva poi dicembre quindi la visione completa del mese anche qui non ho segnato feste perché natale sapete quando è ho segnato l'unica festa che è il solstizio d'inverno proprio perché è una festa naturale cioè data dalla natura e come altrettanto le lune è una cosa alla quale io sono molto legata per cui ho pensato perché no magari sono delle occasioni che non sempre si notano per cui è importante per me metterle nel calendario e poi parte appunto il planner settimanale dove potete pianificare settimana dopo settimana tutto il vostro mese di dicembre naturalmente le feste non finiscono a dicembre per cui ho messo anche il calendario di gennaio e una settimana del planner settimanale per gennaio arrivando quindi al 12 perché dicembre iniziava al 30 e finisce il 5 ci siamo organizzate così a seguire lo spazio per le vostre ricette quindi avete spazio per la ricetta dei biscotti di pasta frolla dalla cucina di zia pina e ci vuole tempo di cottura tempo di preparazione ingredienti procedimento e così via vi ho lasciato un po di spazio proprio per tenere traccia delle vostre ricette più speciali che volete che vorrete provare durante quest'anno se voi vi segnate le vostre ricette io vi regalo le mie per cui in seguito troverete dalla cucina di valentina cottura preparazione e quant'altro alcune ricette della mia tradizione familiare un sole di pasta sfoglia con una piccola descrizione di quello che è quella ricetta una ricetta per la vigilia ovvero i bigoli in salsa d'acciughe il tacchino di natale per il giorno di natale per il capodanno quindi una ho messo una ricetta per ciascun menù per ciascuna festa che vi avevo suggerito all'inizio di festeggiare per capodanno un tagliere molto semplice ma anche festoso per il cocktail party ho messo qualche cocktail ovviamente alcolico perché qua siamo in veneto e non si può fare diversamente per il tea party i frollini di natale questi sono dei classici buonissimi e davvero semplici da preparare per il teddy bear party quindi un una festa che potete organizzare per i vostri nipoti per i vostri figli anche semplicemente per voi con le vostre amiche gli M&M's cookies ovvero i biscotti tipo americani con l'M&M's dentro alcuni di questi tra l'altro sono ricette che io ho già condiviso nel canale anni fa per cui trovate tutte le ricette tutte trovate molte di queste ricette già condivise all'interno del canale youtube per l'epifania i che sono dei biscotti tradizionali molto semplici fatti con la farina di mandorle e dello zucchero a velo vanigliato davvero buonissimi concludo con il rituale d'inverno ovvero un piccolo momento di raccoglimento che amo fare appunto con l'avvicinarsi del nuovo anno e quindi ho lasciato dello spazio per voi per compilare il vostro rituale dell'inverno e qui parte la parte che mi piace di più ovvero un piccolo spazio per il diario delle vostre feste ma anche dei suggerimenti proprio per stampare le foto delle vostre feste e tenere il ricordo legato a quei giorni così magici io devo dire che ho detto già abbastanza che magari ci troviamo un altro giorno per la compilazione vera e propria del planner proprio perché adesso che l'abbiamo sfogliato penso che se mi metto a compilarlo non finirei più per cui fatemi sapere da dove volete che inizi a compilarlo io vi ringrazio per aver visto questo video vi ringrazio per l'entusiasmo con cui avete accolto i planner quest'anno ma le novità non sono finite qui sto organizzando un ruolo di tamburi incontro dal vivo il 30 novembre a padova da this is home bnb ci troveremo per fare il rituale delle feste dal vivo ovvero per creare la vision board insieme dal vivo che cosa vuol dire this is home bnb è il bnb di un'amica che ci ospiterà preparerà un piccolo buffet che potremo condividere insieme chiacchierare e così via ma ci con di ma condividerà il suo spazio con noi proprio per permetterci di creare insieme la nostra vision board per questo evento dal vivo lo spazio non è molto proprio perché siamo ospiti di this is home bnb che ha lo spazio che ha per cui abbiamo organizzato due turni uno la mattina e uno il pomeriggio il turno della mattina inizia alle 9 30 il turno del pomeriggio inizia alle 15 30 vi lascio quindi il link qui sotto per andare a curiosare se avete delle domande non esitate a farmele qui sotto nei commenti privatamente vi lascio anche la mia email e io non vedo l'ora di vedervi dal vivo a padova sabato 30 novembre vi ringrazio ancora per aver visto questo video vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale escono due nuovi video ogni settimana il lunedì ed il giovedì e noi ci vediamo alla prossima ciao